Mi spiace come al solito che pare che non siamo tutti, c'è sempre qualcuno che evidentemente non considera che siamo all'altezza di un confronto, ma chi c'è c'è? Le unioni c'è una legge? È una legge che non condivido, lo si sa, è votato contro, è una legge che non condivido, penso che sia, insomma se si ha un po' di buonsenso si capisce benissimo che è propedeutica unicamente ad arrivare al diritto di adozione, il che non significa garantire un diritto, significa negare un diritto al più debole tra l'altro che è il bambino in questo caso a cui per legge viene negato il diritto di aver colpato in una madre, non mi sembra una grande conquista di civiltà sinceramente. Lei come risponderà a lui?